Convegno venerdì 2 marzo alla Borsa Merci di Arezzo per parlare del rischio idraulico. Quindi, Assessore, lei tirerà le conclusioni. Quali sono i progetti del Comune in questo senso? Innanzitutto in questo convegno, promosso insieme agli altri enti, anche all'Istituto Fossombroni, gli studenti hanno lavorato molto su questa problematica, serve per presentare il lavoro fatto in questi anni di sviluppo della progettazione e per evidenziare ancora una volta che il nostro territorio è esposto in maniera rilevante al rischio idraulico. Quindi i progetti servono, appunto, quantomeno per affrontare e per ridurre la problematica. Abbiamo dei progetti pronti, importanti, delle casse di espansione, soprattutto sul sistema Castro-Bicchieraia, quindi non solo per presentare il lavoro fatto insieme agli altri enti, ma anche per, a questo punto, impostare il percorso per ridurlo. Quindi oggi è importante arrivare a pensare a delle soluzioni che servono veramente a proteggere maggiormente il nostro territorio. Ci sarà anche l'intervento importante di Luca Mercalli, un giornalista nazionale, che ci darà anche il senso di come le evoluzioni climatiche in atto rendono ancora più vulnerabile il territorio in generale e quindi per questo noi, come Arezzo, dobbiamo fare sistema e veramente lavorare pensando al futuro della prevenzione.